buonasera cari amiche e cari amici vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 calcio italia europa mondo ma soprattutto mettete i vostri like ai miei video oltre i mille oltre i 2000 allora è ufficiale è ufficiale perché l'ha comunicato in milan l'acquisto di ruben loftus chic a proposito sapete che l'ultimo ruben che ha indossato la maglia del milan ci ha fatto vincere lo scudetto insieme ai suoi compagni lo scudetto della stella si chiamava ruben buriani tutti voi lo ricorderete cosetto buriani novellino antonelli ora ne arriva un altro a un passo dalla stella esotericamente ve lo volevo ricordare anche se ho messo un bel instagram con il soprannome dopo ve lo dico di ruben loftus chic e nei commenti ahimè perché sono andato ma ero curioso quando metto un bel video mi piace andare a vedere i commenti che bidone è il più scarso giocatore arriveremo quinti siamo caduti in basso eccetera eccetera sapete che cosa mi è venuto in mente una scena di un film c'è zalone con un gruppo musicale e zalone gli che chiede a il a uno di questi ragazzi cosa sono tutti quei segni sulle braccia e lui risponde e lui risponde sono dei tagli ma perché vi fate i tagli perché soffriamo e lui dice ma non è che soffrite perché vi fate dei tagli smettete di farvi i tagli così non soffrite più ecco l'atteggiamento dopo l'arrivo di un giocatore del celsi un giocatore che ha vinto la champions league qualche pochi a qualche anno fa un giocatore che arriva dalla dalla premier league un giocatore che darà intensità che darà fisicità non stiamo a paragonarlo meno a tonali tonali purtroppo ormai non è più un giocatore del milan ebbene mi sembra veramente tanti tifosi che si facciano i tagli sulle braccia aspettate a soffrire guardatelo perché adesso state soffrendo per nulla guardiamolo potremmo prendere il più grande ma troveranno qualcosa anche perché non abbiamo preso prima o dopo dio mio che barba ma se abbiamo preso un giocatore è un giocatore forte io speravo che venisse vediamolo come si integrerà e se incominciamo a prendere Musa Loftusczyk Reinders Pulisic non mi sembra una una campagna rafforzamento così squallida se poi non li prenderemo dirò che una campagna rafforzamento non all'altezza ma perché farsi subito del male così invece di essere contenti o per lo meno incuriositi vedendolo giocare vedendo un giocatore nuovo un giocatore non del campionato italiano quindi questo è il primo punto e è arrivato ufficiale e ho scelto il soprannome abbastanza facile e su youtube non oso mettere la canzone se andate sul mio profilo instagram la vedete heaven I am heaven paradiso e sono in paradiso and my heart beats so that I can hardly speak e il mio cuore batte che faccio fatica a parlare and I seem to find the happiness I seek e mi sembra di trovare la 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 felicità che ho perso perché in pratica quando io e te balliamo chic to chic il soprannome di love to chic non può essere che una famosa canzone interpretata da Fred Astaire o da Ella Fitzgerald o da Ella Fitzgerald con Louis Armstrong ma io ho scelto la versione swing quella di Frank Sinatra chic to chic peccato non poter dire in telecronaca prende la palla chic to chic love to chic pazienza cercherò di dirvelo qua e dunque è lui il soprannome chic to chic notizie di mercato non ce ne sono oggi Musa oggi sembra sempre più vicino Musa Rainders vedremo per il discorso frattesi io non 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 ci conto e non non lo tengo in considerazione perché è cosa molto inter però il milan per adesso non si pronuncia ma mentre per riccardi ha detto no su questo nome non si pronuncia quindi non vorrei che attendessero levo l'evoluzione della questione certamente una cosa è sicura 35 milioni non glieli danno al sassuolo oggi è anche però la giornata del non del chic to chic ma del Q&A vediamo le vostre domande sono qua sul computer e andiamo a leggerle mi sposto qua così è anche meglio Pasquale arriverà Musa e Raiders ci sono delle eccellenti possibilità Teo K8 secondo te CDK potrà essere la sorpresa della prossima stagione dopo un anno di ambientamento lo speriamo tutti però l'idea di stare qui ancora aspettare i segni di vita di ciarde che telare mi angoscia un po' Nick Moliterni vorrei vedere Pulisic al posto di Diaz tu ne pensi ottimo giocatore poi ci sarà qualcuno che si taglia e dirà che un giocatore scarso perché viene dal celsic è andato male lo prenderei subito sono d'accordo con te Nick Luca non avrebbe fatto comodo riscattare vranx per me ha molte molto da dire non ha avuto molte chance è vero però non mi può più aspettare nessuno da Dome Greco chi prenderemo come alternativa Giroud favorito Morata però non mi aspetto anche sorprese il Benny ho letto che il Milan si proverà per Hakimi prestito con obbligo di riscatto e ingaggio risulta io non l'ho mai letta e indubbiamente sarebbe un grande un grande acquisto indubbiamente però ecco il Paris Saint Germain l'ha pagato 50 milioni di euro non lo so ti prego fai smettere non ho il nome gli pseudominalisti di essere così negativi soprattutto su tele Lombardia e non lo so su tele Lombardia ognuno dà le sue opinioni mancherebbe altro e sul fatto della negatività vi ho appena detto che già si lamentano per l'off to cheek Thomas secondo te un terzino destro al posto di Florenzi per adesso non è previsto saranno le opportunità di mercato Teo ma Copminers è lo so grande giocatore ma molto costoso dicono che Reinders assomigli speriamo fracasti Mauri Cardi perché no miglior realizzatore sul mercato non mi leggi mai perché grazie fracasti ti ho letto a me hanno detto che Icardi non verrà Gaetano se il Milan vendesse qualcuno degli extra comunitari presenti si libererebbe ulteriori posti in rosa no con via Vasquez arriverà un altro sono due e due devono essere Loftus è uno e il secondo potrebbe potrebbe essere CQV Eze Cosolini si Morata è l'obiettivo o c'è qualche altra preferenza speriamo non sia Morata a me non ha mai fatto impazzire Morata però se il costo fosse non alto beh è un giocatore di livello nel Milan farebbe bene vediamo se ci riserveranno ci riserveranno qualche sorpresa mi chiedo ancora se Melinkovic Savic arriverà non per adesso non me ne parlano vediamo se in futuro qualcosa nascerà andiamo avanti avete dei nomi incredibili ciao Carlo credi che per la punta ci aspetterà agosto quando probabilmente inizieranno i esuberi non lo so può anche essere ma non lo so agosto adesso non lo so secondo me dato che agosto inizia il campionato speriamo però Ibra è arrivato l'ultimo giorno di già la prima giornata di campionato quindi l'importante è che arrivi uno bravo poi quando non importa Parruc ciao Carlo non si riesce ad aumentare il numero di italiani in rosa avrei preferito un Milan Italia e abbiamo già visto che gli italiani sono molto costosi e non sono dei fenomeni ecco perché non abbiamo gli italiani perché quando vai a chiedere un giocatore anche dell'under 21 ti sparano dai 15 ai 20 non è il caso Davide in attacco ti aspetti qualche colpo a sorpresa? Cosa ne pensi di Gonzalo Ramos del Benfica? A me piace molto ma è molto costoso mi aspetto qualcuno? Sì anche la sorpresa Giuseppe Morina Secondo me su quale trattativo importante tipo Milinkovic e Savic stanno lavorando sotto traccia? Non ho idea Attenzione a Ciucvumezi ma non è sotto traccia attenzione a Sinisterra Matte Nicolai Ci sono giocatori italiani nel radar del mercato? Il sogno Baldanzi lo teniamo vivo? Vi ho già detto quello che penso sugli italiani Villac Caro Carlo Che è il budget effettivo alla fine del mercato? Mi hanno detto che non c'è budget Si vedrà in base all'eccessione Adesso c'è stata questa di Tonali Degli esuberi Quindi non c'è budget Francesco Leao non è geloso Vorrebbe compagni forti che guadagnano più di lui per vincere Non credi? Bah il Milan è attento agli equilibri di spogliatoio E quindi se non ha messo Se non va a prendere giocatori da 6-7-8 No Vlaovic Non credo Marne Coles Playboy Nicolò La pista open day è ancora aperta? Nicolò Non sono io Però ti rispondo lo stesso Playboy 50 milioni di euro Non credo Mitya Grande Carlo Secondo te Tornerremo grandi? Siamo già grandi Le squadre che arrivano fra le prime 4 d'Europa Non sono piccole Tommy Ma perché continuate a credere in Pioli Che è arrivato quinto Non parlate E non parlare dello staff Sempre infortunati È arrivato quinto Hai ragioni Ma è anche fra le prime 4 squadre d'Europa Sono 4 gli allenatori Che sono arrivati in semifinale Pensa agli altri Bertoligno Se ti inseriamo Kamada Siamo obbligati a cedere due giocatori Come Messias e Vasquez Kamada Difficilmente arriverà secondo me Simo Io repo Reinders fortissimo Mi ricorda Redondo nelle movenze Dio mio mi hai dato una bella notizia Lo conosco poco io Luca Cusi Mi chiedevo E se prendessimo Guler E poi lo si gira in prestito Mi hanno spiegato che non si può Lo puoi prendere Lo devi lasciare Al Fenerbace Non puoi prenderlo in prestito E poi Non puoi prenderlo E lo puoi prendere Ma lo devi lasciare al Fenerbace Non puoi prestarlo È una regola Francesco Attardi Prima o poi farà una critica Se devo criticare E critico Se non devo criticare Non critico Ma poi Scusate Scusate Ma il problema Di un tifoso del Milan Scusate Lo dico a Francesco Attardi Vecchio cuore E che io critichi o no La società E se voi criticate la società Criticatela Se io ritengo di criticarla La critico E se ritengo di non criticarla Io non voglio Non voglio criticare o no Ho detto semplicemente Aspettiamo E perché sono stato contento Del mercato Dello scorso anno Nessuno è stato contento L'abbiamo detto Aspettiamo Zigue Ma il rinnovo Di Magic Mind E di Magic Mike Viene rimandato Vediamo quando Mansen Nei nomi che sto sentendo Manca ancora un vice Benassert Sì Potrebbe essere Rein Potrebbe essere Reinders Dovrebbe essere Reinders Lukaku No L'attaccante giusto Potrebbe essere Icardi Milan 21 No Simone Occhi Al momento Quante possibilità ci sono Di vedere Cukvuezi In rosso nero Buone Viga Ti piacerebbe un centrocampo Formato da Amrabat Milinkovic Benassert Con Milinkovic Sulla tre quarti Sì Ma mi piacerebbe anche Che il mio cavallo Vincesse l'Arte Triumph Da lì Speriamo Madura Chianura Simone Carlo è possibile Prendere tre extra Comunitari Se Sì No Due Uno Anzi uno Loftucic è uno Se ne serve un altro Al massimo Non di più Diego Temperato Quali saranno i prossimi arrivi? Più o meno certi È difficile Musa Mi sembra un po' avanti Reinders Così e così Cukvuezi Più avanti Morata Più avanti Branca Con i nomi di mercato Che stanno circolando Dove può arrivare il nostro Milan? Vediamo di questi nomi Quelli che arriveranno Chiudiamo con l'ultima Lupin Buon di Tanti nomi Ma nessun italiano Per la lista UEFA E chi resta fuori di questi Semmai? Bah Allora Quattro ce ne sono Formati Quattro ce ne sono Italiani Quindi Non dovesse esserce uno in meno Saremmo in meno in rosa Invece di Essere in 24 Saremmo in 22 L'importante è che Ci siano bravi 16 17 17 18 Gli ultimi 4 5 Non è un problema Dunet Un saluto dal collegio Ona Osio di Torino Se è un grande Per quanto riguarda SMS Novità No Purtroppo Daniele È vero che Cardinale potrebbe Ritornare sui passi E richiamare Maldini? Mi sembra difficile Non lo so Ma non mi sembra difficile ADF Daniele Ghilardi Centrale Difesa Under 20 Fisico veloce Abbastanza tecnico Profilo ottimo È Un Under 20 Mantua Cosa vuoi che ti dica? Non lo conosco Però Puoi immaginare I tuoi colleghi tifosi Se prendiamo un Under 20 Mantua Però Proverò a vedere un po' Se questo Daniele Ghilardi È bravo Chiudo Andrea Secondo te Stiamo migliorando la squadra E giocano E lavorano Per migliorare la squadra Se vi è piaciuto questo video Mettete il vostro like Iscrivetevi al canale Di Carlo Pellegrani